Signori, rimanete con noi perché abbiamo le ultime notizie. Signori, rimanete con noi. Signori, rimanete con noi. Signori, rimanete con noi. Salva potenti e salva ladri Lei non è democratico perché è di sinistra Siamo in Italia per grazia di Dio e non nella Romania di Ceausescu Onorevole Berlusconi! Onorevole Berlusconi! Onorevole Berlusconi! È in America che è proibito! No! In Romania il Presidente del Consiglio era proprietario della televisione, proprio come in Italia Partia Italia! Partia Italia! È un colpo di stato? Bosti, come Togliatti nel dopoguerra, avrebbe bloccato una rivoluzione armata Io mi ricordo quando sono andato a fermare gli uomini Fermi! Fermi! Bosti, il suo tempo è scaduto Un'ultima cosa che ho vinto No, il suo tempo è proprio scaduto Bosti, 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 il suo tempo è scaduto Un'ultima cosa che ho vinto No, il suo tempo è proprio scaduto Bosti, 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 il suo tempo è scaduto Un'ultima cosa che ho vinto No, il suo tempo è proprio scaduto Bosti, 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 il suo tempo è scaduto Un'ultima cosa che ho vinto No, il suo tempo è proprio scaduto Rompi i coglioni! e con questo il telegiornale finisce vi ricordo che subito dopo andrà in onda il super karaoke con Fiorello vi auguro una buona serata e arrivederci a domani grazie